Il diavolo è il padre della menzogna e circuisce le persone con il dialogo. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata a casa Santa Marta. Partendo dalle tentazioni insinuate ad Adamo ed Eva, così come quelle a Gesù, il pontificio ha chiarito che dialogare con il diavolo è inutile perché è un truffatore che non paga bene, promette tutto e poi lascia nudi. Quindi nella tentazione si prega e non si dialoga senza cedere alla vanità, alla superbia, alla cupidigia o alla corruzione. Tanti corrotti, tanti pesci grossi, corrotti che ci sono nel mondo, nel quale conosciamo la vita sui giornali, forse hanno cominciato con una piccola cosa. Non so, per non aggiustare bene il bilancio. Quello che era un chilo, no, facciamo 900 grammi ma che sembra un chilo. Si incomincia, la corruzione si incomincia da poco. Come questo col dialogo. Ma no, non è vero che ti farà male questo frutto. Mangialo, è buono, è buono. È poca cosa, nessuno se ne accorge. Fai, fai. È poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si cade nel peccato, si cade nella corruzione.